Salve gente di mondo di questo nonostante, oggi siamo qui in compagnia Markets per fare una reaction alla reaction alla reaction, no non siamo Raterix, come quella di Raterix, esatto, no oggi siamo qui per fare una prova a non ridere, però con una prova a non ridere diversa, queste sono GIFs with sounds che sono a provare a non ridere migliori, e niente oggi andremo a fiseonare con questo video che direi che se si vede con il video, quindi se fannoci con i pezzi di legno. Iniziamo bene, oh pazzo, tutti hanno sto costume da dinosauro, è bellissimo, eccolo, va bene, no è Raterix, ti come ha fatto, è una solita intro brutta, cambiar mano eh zio, oh bello, Se l'immagine si allarga non ha senso, però è bello. Non è anche... Comunque l'ho scelta in pochissima. Ma... Magari ogni piano era un giorno. Oh no! Ma perché l'hai fatto? Si sta agitando il cane. Ma perché ti è venuto in mente? Ah, la musica di Half Life. Perché è quel... sai cos'è no? C'è quel rubinetto lì che è incastrato nella testa di un pelato nell'intro. C'è incastrato, è semplicemente messo lì. C'è la di natura. C'ha senso. Oh, le lavatrici! Stanna ma... Sta fibra o sta aggirà anche? No, fibra... Wow! Fine! Che roba sì che mi interessa. Questo mi interessa! Guarda lì lì! Guarda quella centrale! È tondissimo! Ma è un gatto! Sì! Ma quant'è grosso! C'è una macchina per bambini quella! Sì! Ciò che senso ha? Perché hanno degli alberi nei pugni? Non lo so! Look and fa qui me! Oh! Cos'è? E' questo ciò che vogliamo vedere! Cos'è? È un dodo! È un dodo del pollo! È un dodo! E poi c'è ciò! Oh wow! Guarda com'è boosta! È pazzo! La felicità! Eh! Beh! Bello! Fluido! Ma l'ha fatto solo una volta! Era il stesso video! Hi! Vai! Cos'è ciò? Non lo so! Sarà un topo! Ah! Credo sia una valigia! Un topo poco renderizzato! Inutile! Molto! Eh sì! Molto! Ok! Ciò non va bene! Che cos'è? Gli altri erano migliori! Comun- Cosa? È morto! È morto! Questa canzone potremmo imitarla Sì Una fetta di prosciutto quella Cos'è? Pozzo Quanto è contento Sì Emo una volta non dov'è Ok Eh sì va bene Se hai in corsa una valanga cosa fai? Il backflip Esatto Oh fa lo stesso rumore Don't freeze Don't freeze Quanto ho messo bene Se scrive Un cane che dà bisogna qua Fine Ma no Sei scemo Sono qua per vedere mia figlia Giuro Oh Mi sa che abbiamo trovato la cavalletta Che era in camera mia prima Oh no Ma è il contrario Perché mi fa così ridere? Perché sei pazzo No Ah Il gioco più bello del mondo Ma no La gristezza è minuscola Un gesto proprio Hi Sì però perché stai facendo ciò C'è il Pazzo Sì Adappato alla fine Quello è un fiore What the hell is that? Non capisco come faccia a muoverlo Ci saranno fili? Non lo so Superhero landing Wait for it Superhero landing Triggered E' quello dietro che applaudi a caso Sì Sì Si esplodi 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 Ma no Eccolo Che schifo Che schifo Che schifo Perché vestite l'attacco? Perché è fatto come lo schifo? Oh Umidiccio Inutile Già Meno inutile Ma comunque è inutile Non fa ridere No Cioè vabbè È gif e sounds Non è prova a non ridere Quindi diciamo che è giustificato Questo è fatto bene Oh i vecchi E i cavalli Oh cos'era quello? Cos'è questo? Sì c'ho Eh Stanto vanno giù quelle gambe Si rompono Un gabinetto No Eh Sploso Eh cambiato Si Pig Quello che gli è arrivato in bocca Era bellissimo Quanto ammortizzato Mi piacciono in quelle luci Si Sono pazze Il damn train Il damn train Il damn ever È morto Oh questo danza in modo bello Si ma Veramente le tipe shuffle sono più brave Si Oh c'era uno in una compilation che ho visto Che era esageratamente bravo Non avevo mai visto Oh Color sabbia Si ma via le ruote Free metal Wow Sei nude Quello il problema Si Oh no Oh no Queste era la copertina Quindi deve essere inutile Però ci devono essere dei culi Ah il mio adorato Counter strike Il mio montaggio Era più bello Andate da vedere Non è vero È bello Come è veloci zero lenta Oh Ma no Che tristezza L'acqua però è rimasta dentro Cos'è? Non è Oh no Fine Ok No No Via 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 Vai via Sei brutto Sei brutto Smettilo Cos'è? Sacco di nodi Stai richiamandolo qua No Non dovrebbe funzionare così Continua 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 Non dovrebbe fare Ah Festa Yeah Non nemmeno un air chat Bene Cos'è? Hi Più strano Morto Fanno schifo Madonna Madonna E' esploso un tambino a caso No L'interfattore No Fine Sono soddisfatto Abbiamo perso La prova Non è vero Vabbè Quindi signori Per questo video è tutto Ehm Per questo video è tutto Quindi se non stai con il sito Iscrivetevi Commentate Condivite Con tutti i vostri amici E noi ci rivediamo Ad un prossimo Shiri biriri biribush No Sì No 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 No, but I don't know what to do